Sta lottando tra la vita e la morte Matteo della Pozza, 22 anni, residente nel comune di Valvasone Arzene, militare in servizio effettivo all'ottavo reggimento alpini di Venzone, uscito di strada con la moto nella notte tra il 23 e 24 agosto in via delle tombe romane a Cividale del Friuli. Questa non era sua, ma gli era stata prestata poco prima da un amico, un giovane di 22 anni, residente a Pradamano per provarla. Il motociclista, che ha riportato diverse ferite in seguito alla caduta, è stato intubato e trasportato all'ospedale di Udine in condizioni gravi e si trova ricoverato in terapia intensiva. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cividale e i carabinieri per i rilievi di legge.